La Cesare Galdabini è un'azienda metalmeccanica che produce macchine dal 1890, quindi da ben 128 anni. Facciamo in particolare tre linee diverse di prodotto che sono raddrizzature per alberi, profili, tubi, barre, pressi idrauliche e sistemi automatici per lo stampaggio della lamiera sottile, strumenti e macchine di prova universali e in particolare macchine di trazione. La meccatronica la definirei un po' come quella disciplina che unisce due competenze fondamentali, cioè quella della meccanica e quella dell'elettronica. Oggi con elettronica naturalmente si intendono anche tutti i software che governano e comandano la sensoristica a bordo macchina. La nostra società nei giovani cerca fondamentalmente due tipi di competenze. Una che è quasi un prerequisito è quella di sapere come minimo l'inglese in modo fluente. La seconda invece di carattere più strettamente professionistico è quella di avere una competenza scientifica e in particolare di tipo meccanico-elettronico per poter essere inseriti in un ruolo nell'azienda. Il consiglio è sicuramente quello di avere una preparazione teorica in una disciplina scientifica, quindi elettronica, elettrotecnica, meccanica, informatica. E poi sicuramente di avere la curiosità di voler imparare. Quindi la curiosità di imparare è il motore che consente di progredire e di conoscere. Quindi una volta che un giovane preparato entra in un'azienda che ha e che dà delle possibilità di conoscenza e di imparare, bisogna avere la curiosità e la passione per progredire. Grazie a tutti.